Ciao, sono Meno di Hermut e oggi parleremo dell'After Shave Spray. Si presenta come uno spray leggero e fresco, ideale soprattutto per il trattamento post-rasatura. Grazie ai suoi principi attivi svolge tre importanti funzioni. Idrata la pelle, elenisce da rossori ed eventuali microlesioni, in più ha un ottimo potere rigenerante cellulare. I principi attivi di cui vi parlavo sono sei. Abbiamo l'acilo ialuronico, che è un ottimo elasticizzante e levicante per la pelle, in più favorisce la ricostituzione del film idrolipidico. Un altro importante principio attivo è il pantenolo, ottimo emolliente e lenitivo. L'olio essenziale di menta, invece, ha un forte potere rinfrescante, in più dona un gradevole profumo. Vi troviamo l'olio essenziale di rosa moscheta, che ha un forte potere cicatrizzante. Un altro principio importante è la vitamina E, nota a tutti per le sue proprietà antiossidanti. Come viene utilizzato? Bisogna spruzzare diverse quantità di prodotto sul viso e picchiettare fino al completo assorbimento. Come in tutti i nostri prodotti, non sono presenti i parabeni all'interno. Grazie mille! Grazie a tutti! Grazie a tutti.